incominciamo a inquadrare cose serie va ed eccoci nuovamente qui siamo quasi pronti di nuovo a pesca oggi vediamo che succede oggi abbiamo cambiato canna sempre una canna però ragazzi non ho molto tempo per cui va bene così va bene ora andiamo a lanciare vediamo che succede oh signori c'è da morire da morire incredibile vabbè andiamo a lanciare vediamo cosa c'è ciao 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Non si scherza, si è fottuta. Guardate quanto per me di timini si è fregata. Va bene, giusto, giusto, non si può vincere da sempre. Grazie a tutti. Oh, cazzozza. Peccato. Aspetto qualche altro secondo, anche se è dubito, secondo me si è punta. Eh, se parte, perché lo fai... Ah, perché lo fai... Aspetta, ecco, 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 ecco... E poi, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.